i podcast di lcn sport all'inizio del mercato manca ancora qualche ora più che qualche giorno minuto di partenza sarà la mezzanotte del 2 gennaio ovviamente si lavora già da un po' di tempo a lecco come altrove infatti iniziano a diventare tante le indiscrezioni che si registrano un po' da tutta Italia l'ecco non è da meno si inizia a parlare di quelli che potrebbero essere i grandi obiettivi soprattutto a livello offensivo ma non solo replichiamo un po' per fare il conto delle puntate precedenti l'ecco insegue tanto per cominciare un attaccante e questo è l'obiettivo principe per affiancarlo a Lorenzo Pizzauti che è stato l'unico 9 tra l'altro non purissimo a disposizione di vista di Luciano Foschi dopo la squalifica di Umberto Eusepio c'è poi la necessità di irrobustire la difesa e qui ovviamente il rappresentante Maximo è Matteo Battistini che abbiamo nominato come miglior giocatore a Brucessa del 2022 per rendimento ma anche di andare a far qualcosina sul braccetto di sinistra e anche in questo caso l'unico rappresentante vero e proprio è Patrick Errici non è un caso che poi Sejliak e Battistini e Derrici siano tra i giocatori più presenti Battistini e Derrici sono i due giocatori più presenti della Rosa considerata anche l'alternanza tra i portieri tra Foschi e Tacchinardi il primo che ha sempre puntato su Riccardo Melgrati il secondo che nella sua vera esperienza ha dato fiducia a Stucchi come under partiamo allora dagli attaccanti Tuminello è l'idea un'idea l'indiscrezione è quella che porta a questo giovane giocatore che ha avuto una carriera fin qui anche sfortunata lui era riuscito a mettersi in mostra in Serie A con la maglia del Crotone giocando poco, sei partito e segnando tre gol l'Atalanta aveva deciso di puntarci purtroppo per lui c'era stato in mezzo anche un infortunio allegamento crociato che l'ha privato di quasi la totalità della stagione 2017-2018 dall'Atalanta al Trapani Palermo Roma qui si era formato poi per l'appunto l'arrivo a Crotone l'Atalanta se non prende lo manda a Lecce per pescare a Spalli e Reggina fatica sin da complessivamente poco torna in estate l'ultima a Crotone scende per la prima volta in Serie C lui era un prospetto di quelli di cui si parlava veramente tanto ai tempi della Roma tacchette che in primavera faceva a Sfracelli con anche un buon fisico visione della porta e via dicendo a Crotone scende in C la squadra sicuramente è forte lui fa però da comprimario il Crotone è secondo nel girone C di Serie C a una distanza ampia da un Catanzaro clamorosamente forte obiettivamente che ha fatto già 54 punti quando ha appena iniziato il girone di ritorno e con i 51 del giro d'andata ha fatto un record assoluto nella storia quindi è decisamente irresistibile la squadra calabrese allora il Crotone potrebbe anche cederlo ovviamente non parliamo di una riserva del Crotone parliamo di un comprimario un contratto fino al 2026 qui chiaramente poi sta tanto alla volontà della società la volontà del giocatore di potersi eventualmente spostare all'eco qualora arrivasse una richiesta giusta il linguaggio è pesante il contratto dicevamo è lungo è quadriennale ormai verso i 3 e mezzo i primi 6 mesi stanno quasi per passare lo score di 15 partite senza far gol il minutaggio non è granché comunque parliamo di 299 minuti in campionato 135 in Coppa Italia che divisi sulle partite sono 23 di media in campionato 29 in totale in Coppa è stato titolare quindi ripeto parliamo di un giocatore che da un certo punto di vista si deve anche ritrovare tra i professionisti vedremo se si concretizzerà questa possibile pista se si verificheranno le condizioni per farli percorrere l'Italia in verticale sempre da quelle parti c'è Bernardotto 6 partite senza nessuna marcatura lui è un percorso molto diverso arriva da sotto arriva dalla D poi ha fatto la C l'ha fatta bene sfiorando anche la doppia cifra di recente e poi se l'è preso il crotone però ha giocato obiettivamente poco è un giocatore diverso rispetto a Tomminello noi abbiamo detto nei giorni scorsi che l'Eco punta a un attaccante che ha fatto la Serie B anche ecco sicuramente Tomminello rispecchia questo profilo Bernardotto no però sappiamo anche che non è ancora iniziato al mercato quindi ci sarà un mese quasi pieno da riempire praticamente un mese da adesso giù di lì quindi si bisogna anche costruire le piste alternative sempre per quanto riguarda il reparto offensivo un altro nome è quello di Davide Voltan è un 27enne l'uscita da Suttiran l'anno scorso ha fatto una buona stagione segnando 6 gol e distribuendo 3 assist in 25 partite di campionato quindi un rendimento di un certo tipo inserito in una squadra come quella tirolese che tutto faceva meno che impressionare dal punto di vista della produzione offensiva però c'è stato un periodo quello a cavallo tra giro di andata e giro di ritorno che ha visto Voltan veramente grande protagonista della squadra di Avorjic una delle sorprese di questa stagione ha dato i gol che magari non riusciva a dare Casiraghi in quel momento lì quindi insomma un elemento interessante giocatore offensivo sulla carta trequartista barra seconda punta evidentemente diverso da quello che è il profilo cercato in processo questo lo ripetiamo anche per completezza di informazione per quale che sono le caratteristiche Tullinello è sulla carta il profilo ideale diversi Bernardo 8 e Volta ripeto ancora le piste alternative poi vanno sempre valutate non credo che lecco andrà a cercare un giocatore da prendersi a titolo definitivo perché comunque poi a luglio Pinzauti e Deusepi ci saranno quindi si può puntare anche su un giocatore da rigenerare per sei mesi che possa arrivare con fame e con voglia e dare il contributo alla causa per rilanciarsi e poi mettersi in mostra dopo magari qualche mese così e così nei giorni scorsi abbiamo detto anche di Firenze che probabilmente è uscita dal dal Sestri Levante con cui ha giocato poco ufficialmente non è stato comunicato la possibilità che lui si sia infortunato ma il Sestri non fa grandissima comunicazione da questo punto di vista era stato il grande colpo arrivato a ottobre una squadra strepitosa per la Serie D il Sestri che ha appena perso tra l'altro la prima partita stagionale con il Borgosesi era persa male e vabbè però è sulla carta lanciatissimo verso il salto di Serie C che per alcuni presupposti della stagione avrebbe anche del clamoroso andiamo sulle uscite da tempo vi raccontiamo come Sangagli e Stanga ovvero i recenti capitani con la stagione scorsa di Inter e Milan primavera sono in uscita Sangagli ancora di proprietà dell'Inter è un regista ha avuto spazio solo in Coppa Italia segnando con la Juve Stanga invece è di proprietà blu celeste un contratto fino al 30 giugno 2024 quindi poi bisogna andare a capire le formule eventualmente di trasferimento che Sangagli possa tornare all'Inter e essere destinato altrove è una strada anche facile ad attuare Stanga invece rappresenta anche un patrimonio della società blu celeste quindi va anche valutato eventualmente appunto la modalità di cessione però ha anche uno spreco tenerso un 2002 in rosa senza farlo mai giocare ha giocato poco Rossi sulla fascia sinistra francamente su questo aspetto abbiamo anche espresso queste perplessità un giocatore diligente comunque al quale si poteva concedere sicuramente qualche minuto in più perché demeritato mai non ha mai impressionato è vero però comunque il suo l'ha sempre fatto poi c'è tutto il blocco prosesto scapuzzi mallini pecorini arrivati criticati lo sappiamo via dicendo non ci torniamo scapuzzi aveva stimatori in estate il sant'angelo nodigiano era uno di queste il seregno di recente a novembre si è preso jacopo colombo come ds e evidentemente se vuole fare un giro di ritorno tra tutte le vie difficoltà che ha la società seregno un po' arrembante per andare a conquistarsi quanto meno la salvezza sicuramente parliamo di tre giocatori che per la serie d potrebbero anche dire la loro scapuzzi in primis che sicuramente è stato anche capitano a sesto quindi possiamo immaginare anche un certo tipo di colonione indententi colombo vedremo se sono rose fioriranno capitolo giovani ci abbiamo Longo e Berra che è giocato Berra mai infortunato anche a lungo Longo poco quindi lui evidentemente potrebbe essere l'uscita se ne parla da tempo in estate poteva già tornarsi nell'arconatese in prestito a fare ancora un po' di esperienza lui che è l'arconatese ci arrivava e ha fatto bene al primo anno di serie d e occhio perché ve l'avevo scritto anche su lcannesport.it scapuzzi ma ogni sono elementi che evidentemente con l'arrivo di una punta potrebbe sicuramente avrebbero non potrebbero sicuramente avrebbero spazi molto più ristretti già oggi sono tutt'altro che larghi che rimangano tutte e due con l'arrivo di un centro avanti ci pare francamente impossibile quindi poi anche suo bambino in una porta ce la teniamo aperta situazione contrattuale 31 2024 lui abita Alecco è cresciuto Alecco si è formato anche a Olginate quindi insomma da questo punto di vista anche un giocatore locale però comunque con Foschi ha giocato poco e ha convinto poco perché tipo i giocatori lo sappiamo che senza tanti minuti fa veramente fatica ad incidere la necessità però qual è e lo diciamo perché questo da tempo ottimizzare per forza la lista lo richiede 24 giocatori e un 2003 che si può andare ad inserire come jolly mettiamola così quindi è uscito pure entrato Martorelli quel posto è bruciato tra virgolette dal punto di vista numerico quando si riapriranno le liste appunto il 2 giugno ci sarà Tordini da rimettere dentro ed è evidente che dal punto di vista numerico ci saranno i giocatori che dovranno andare senza un lungo che esce può esserci un Tordini che entra senza lasciare fuori lungo senza stromettere lungo dalla lista questo per fare un discorso matematico sui due giocatori che sono pari ruolo quindi sarà un mercato di ottimizzazione dovrà essere per forze cose un mercato di ottimizzazione ma che evidentemente dovrà puntare anche a preservare un gran gruppo che si è formato che sta tirando la carretta da mesi 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 riuscendo a raggiungere dei risultati straordinari ottimizzare con giudizio quindi senza andare a stravolgere magari inseguendo nomi al Tisonanti sì che però poi sul periodo medio quello del giro di ritorno non riuscirebbero a dare il loro contributo quello che tutti si attendano per alzare la sticella di ritorno Grazie a tutti.